Vabbè ah tira, giusto però mi sembra che lui sta in full power, facciamogli consumare con la sua, mi sembra che sta in full power, mi ricordo, mi sembra che sta in full power, no, non sta in full power, no, LOL, pezzo di merda, no, è un genio, cioè lui ha pensato che io non andavo a fare, è un genio, è un genio, lui è un genio, lui è un genio, io sono il mongoloide, lui è un genio, Non so quanto si sia visto del mio palletto, ma su un uomo, è altro bull per me,